Questo qui è il riff di Come As You Are di Nirvana E qui ho praticamente cambiato tonalità perché nella versione originale siamo un tono indietro Può essere che hanno accordato la chitarra un tono indietro Quindi adesso la suoniamo in accordatura standard Praticamente qui di nuovo stiamo utilizzando un dito Questa volta utilizziamo due corde, un pochettino più difficile di quello di prima E praticamente cosa stiamo facendo? Abbiamo una pick up line, ossia una frase introduttiva che ci introduce al giro degli accordi Si chiama pick up line E questa frase qui E poi inizia il giro Come suoniamo questa frase qui? Sulle varie del 3 suoniamo il mi basso, nota aperta Poi sul 4 di nuovo il mi E poi andiamo a suonare sul primo tasto sulle varie del 4 Quindi sarà così 2 E 3 E 4 Questa qui è la pick up line E poi abbiamo la prima frase Che è questa qui Cosa stiamo facendo? Stiamo suonando secondo tasto Della sesta corda sempre Poi questo avviene sul primo battito Poi sul secondo battito abbiamo quinta corda a vuoto Sulle varie di nuovo ritorniamo sul secondo tasto della sesta corda E risuoniamo il tutto Quindi Pinta corda a vuoto Secondo tasto E poi facciamo il secondo tasto E un tasto indietro Quindi qui sarà 1 2 3 4 Di nuovo questa prima battuta 1 2 3 4 Ok Quindi ecco qui dobbiamo stare un pochettino attenti A muoverci tra le due corde E qui sono praticamente suonando Ti consiglio di farlo in questo modo Dove facciamo pennata Per suonare la quinta corda a vuoto E poi contro pennata Per suonare la sesta corda sul secondo tasto Quindi Ok facciamolo in questo modo Quindi questa qui è la prima battuta La seconda battuta abbiamo Sesta corda a vuoto E poi suoniamo qui il secondo tasto della quinta corda Quindi No 2 E 3 E 4 Ok Ritorniamo alla nostra pick up line Praticamente Quindi Di nuovo Di nuovo Corda a vuoto Quinta Secondo tasto Corda a vuoto Corda a vuoto La teniamo sul 3 Su due palle del 3 Andiamo di nuovo sul si Questo si E poi ritorniamo Corda a vuoto Tasto E ritorniamo da capo Ok Ripetiamo il tutto Quindi La suono di nuovo lentamente Ovviamente puoi prendere la chitarra E esercitarti con me Puoi fermare il video Puoi ritornare indietro Ok E quindi in questo modo ti puoi esercitare Ok Suoniamola piano piano 2 E 3 E 4 1 2 E 3 E 4 1 2 2 E 3 4 1 2 E 3 E 4 3 3 3 4 4 3 4 3 Ok qui una cosa che vorrei giusto farti notare Che quando suono questa parte qui Ok Ok come vedi Si sente soltanto quella nota lì Ok questo si Perché? Perché con la punta del dito Sono andato a fermare La sesta corda da vibrare Come vedi Come vedi adesso non vibra più solo da suonare E quindi ecco questo qui è un ottimo sistema per cercare di tenere il tutto ben pulito perché vogliamo sentire una nota alla volta Ok quindi E questo è quanto per questa lezione ragazzi grazie tanto per l'ascolto e mi raccomando se conosci altri riff semplici che possono essere suonati con un dito Semplicemente lasciami un commento così ci fai sapere e vedrò magari di creare altri video al riguardo E poi ragazzi mi raccomando queste lezioni sono gratuite quindi se ti è piaciuta semplicemente clicca mi piace Condividila con i tuoi amici se hai delle domande puoi sempre lasciare un commento Ok ragazzi mi raccomando alla prossima Ok ragazzi mi raccomando alla prossima